Dopo due lunghi anni di stop si riaccendono i riflettori sul più grande e conosciuto circuito di salto ad ostacolo italiano, il Toscana Turra. Quest'anno ripartiamo veramente orgogliosi di riniziare un anno veramente interessante. L'evento, giunto ormai alla sua sedicesima edizione ed organizzato dall'Arezzo Equestrian Center, con il patricinio del Comune e la collaborazione di Fiera Cavalli Verona, vedrà protagonisti nei campi di gara di Sanzeno i migliori rider internazionali provenienti da oltre 30 nazioni pronti a darsi battaglia sino al 17 aprile per conquistare un monte premi complessivo di 800.000 euro. Indubbiamente credo che l'importanza dell'Arezzo Equestrian Center e i suoi campi particolarmente aggradanti ai nostri cavalieri è un punto di forza, ma il grande punto di forza è sicuramente la bellezza della Toscana e anche della città di Arezzo che ospita e che sicuramente oltre a dare la cultura, la qualità e anche la parte enogastronomica aiuta a far venire questi personaggi da tutto il mondo per partecipare a questo showground, uno tra i più importanti d'Europa. Quindi un invito a tutta la cittadinanza ricordando che l'evento è interamente gratuito quindi si può accedere presso le nostre strutture senza nessun tipo di problema e per venire a vedere appunto nella natura e sotto il sole a retino una bellissima manifestazione internazionale.